San Giovanni Marignano, campionato italiani giovanili, terza prova assoluti Young Rider, abbiamo qui la medaglia di bronzo, Severo Cipriani, com'è andata? Che emozione è stata? Fortissima, benissimo, è andato tutto per la meglio e che dire, veramente un'emozione forte. È stato un campionato, devo dire, molto duro e tosto sia per noi che per i cavalli soprattutto e siamo contenti così, è andato molto bene. L'ultima Manchester è uscita dal tempo per un punto, ma è servito per il tempo, ma era veramente veramente dura, si è iniziato a sentire la fatica dall'ultimo giro. Senti, Monti è un bellissimo Sauro, ce ne parli, ce lo racconti? Wodassas, per gli amici belli, chiamato così, perché oramai fa parte della famiglia e dobbiamo tutto grazie a lui, veramente, perché ci mette cuore, tutta la forza che ha e ci rende veramente felici tutte le volte. Sei a Laziale, con chi Monti? Sì, sì, sono a Laziale e con Stefano Rasso. Senti, i prossimi appuntamenti? Per ora facciamo un po' di riposo, visto che il campionato è stato abbastanza duro, comunque iniziamo a lavorare per la prossima stagione. Ok, un po' di indoor e poi... Sì, 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 qualche concorso indoor e poi riposiamo che la stagione prossima sarà dura. Perfetto, complimenti. Grazie, grazie mille. Grazie.